Ciao a tutti ragazzi, sono Neven, bentornati sul mio canale, eccoci qua con un altro video su EA Sports VRC Io sto registrando quest'intro e la successiva outro, diversi giorni dopo averlo registrato, questo episodio, e editato Quindi onestamente non ricordo neanche benissimo troppo Comunque, vi posso dire che andremo a fare il rally pacifico, che in teoria è in Indonesia Dovrebbe essere, e niente, sterrato, vi annuncio già che mi sono divertito un macello in questo cazzo di rally E niente, niente, godetevelo, tutto su sterrato E niente, niente, vedrete, ovviamente con la Escort, mi sa che ve l'avevo già accennato alla fine dell'episodio prima E andremo a farlo con la Ford Escort In realtà a livello di potenza siamo lì con la Ford Escort, bene o male sono lì, sono molto molto simili Niente, niente, ci vediamo a fine episodio Un caloroso benvenuto al primo turno del campionato al rally pacifico Sembra che la scelta delle gomme sarà difficile questa settimana, dato che le condizioni meteo non si prospettano del tutto costanti E ora passiamo alla classifica Oggi è un nuovo inizio in campionato I team sanno bene che se gareggeranno al meglio potranno creare una solida base su cui costruire il resto della stagione Bene, la coppia si prepara a iniziare l'evento e spera di terminare comodamente questa prima tappa per affrontare al meglio la giornata Inizia 80, secca destra, buona fortuna 5, 4, 3, 2, 1, via 80 Attenzione, secca destra, in sinistra 2, chiude, 40 Destra 2, chiude lunga Inversione sinistra al video 40 Stai a sinistra sudosso, in un ponte, 70 Accendo sinistra e dosso lungo In destra 5 E accendo sinistra e dosso lungo In sinistra 6 In destra sudosso In sinistra 1, 40 Al video destra 1, sudosso 120 Sinistra 6, 90 Accendo destra sudosso Allenta 50 Sinistra 4 In destra 4, taglia 60 Sinistra 4 In un dosso E destra 3, media, apre 60 Sinistra 4, 70 Sinistra 4, corta, 40 Sinistra 5, media, 40 Nascosta destra 4, 30 Destra 2, corta, 50 Destra 6 sudosso, lunga In un dosso, 70 Dosso allenta, 100 Al video tornate, sinistro apre 50 Dosso 80 Dosso 50 Destra 4, chiude 130 Sudosso, prena Al video sinistra 1, nascosta 70 Sinistra 5 In accendo destra, media, chiude 4, 80 Al video secca destra Al video secca destra 70 Sinistra 6, apre, poi chiude Sinistra 5, lunga 40 Destra 4, chiude In sinistra 4, corta Sudosso, 100 Sinistra 4, corta In destra 5, apre 40 Al video destra 1, corta In sinistra 1, 50 Attenzione Destra 6 sudosso, subito in sinistra 3 E destra 5, corta In sinistra 6, 60 Rallenta Sinistra 6, lunga Subito destra 2, apre, media E accendo sinistra E sinistra 3, corta Sudosso, 30 Destra 4, in accendo sinistra In destra 4, corta In dosso lungo, 30 Sinistra 6, media Rallenta, 40 Destra 4, in accendo sinistra 50 Destra 4, 30 Attenzione E tra la sinistra 3, corta In destra 2, corta 70 Destra 5, sinistra 5 E destra 2 In sinistra 1, media In destra 2 In sinistra 3, corta In indosso In sinistra 6 In destra 6, brusca In destra 2, 30 Ritarda Sinistra 2 50 Attenzione Accendo destra In secca sinistra 30 Accendo destra Taglia In sinistra 4, corta 30 Fredda Destra 6 30 Destra 1, corta 50 Destra 6, corta 40 Dosso 60 Sinistra 5 Sinistra 5 Sudosso Tieni In destra 6 Su avvallamento 60 Destra 4 Sudosso 40 Attenzione Stai a destra Sudosso In sinistra 1 Apre 30 Accendo sinistra In destra 6 In sinistra 2 40 Rallenta Sinistra 6 Subito tornante Destro Sudosso Apre Tieni E setta Sinistra E al video Sinistra 1 30 Dosso In accendo Sinistra 40 Destra 4 Taglia Apre E sinistra 4 Sudosso In sinistra 2 Corta E dosso Lungo 30 Ritarda Destra 3 Apre 130 Sinistra 5 Corta Sudosso Subito Destra 4 90 Nascosto Sinistra 2 Corta In accendo Destra 50 Anticipa Sinistra 5 Apre Sudosso 40 E tabba Destra 3 30 Sinistra 4 Sudosso Non tagliare 80 Sinistra 5 Destra 6 E destra 4 Corta In sinistra 5 90 Attenzione Destra 3 Corta In accendo Sinistra 40 Destra 4 Corta Sudosso 70 70 Destra 6 In sinistra In sinistra 6 Sudosso Un'altra 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 sinistra, destra 1, buona fortuna, 5, 4, 3, 2, 1, via, accenno sinistra, e al vivio destra 1, e accenno destra, 70, retarda, sinistra 6 sull'osso, in destra 4, chiude, in sinistra 3 sull'osso, in destra 4, brusca, attraverso il crocio, 60, rallenta, sinistra 6 sull'osso, in destra 1, nascosto, in sinistra 2, 40, accenno sinistra, 30, destra 6, rallenta, 50, sinistra 4, 30, destra 5, corta sull'osso, 120, 2, 90, 2 sull'osso, 80, salto 100, rallenta, attenzione, accenno destra, in accenno sinistra, e al vivio destra 1, 40, 2 sull'osso, 3, 2 sull'osso, 3, 2 sull'osso, 80, al vivio secca sinistra, e al vivio secca sinistra, nascosta, in un dosso, in destra 1, e sinistra 4, 30, destra 4, porta, su dosso, 30, sinistra 1, brusca, in destra 3, porta, e destra 4, in sinistra 4, 80, sinistra 6, rallenta, 50, metà a destra 3, media, 50, sinistra 3, apre, chiede 4, sudosso, 40, al vivio destra 1, sudosso, stringe, destra 6, in un ponte, e sinistra 4, tieni, in destra 6, taglia, in accenno sinistra, 140, rallenta, dosso, subito destra 1, lunga, 40, dosso, 40, sinistra 3, chiusura media, 90, dosso, e abballamento, 200, nascosta, salto grande, 170, rallenta, gira, ritarda, secca sinistra, 140, dosso, 190, rallenta, al vivio secca destra, nascosta, 150, sinistra 6, sudosso, 80, accenno sinistra, rallenta, 70, chicane, entra a destra, e dosso lungo, 30, al vivio secca destra, 150, salto, su arrivo, 160, all'arrivo, ok, tempo di 3 minuti, 16,6 C'è solo questa tappa da completare prima della manutenzione, e se questa crew non avrà problemi particolari, le riparazioni necessarie, saranno minime, inizia 130, secca sinistra, buona fortuna, 5, 4, 3, 2, 1, via, 130, al vivio secca sinistra, 1, indosso, chicane, entra a sinistra, e accenno sinistra, accenno destra, 90, destra 6, curta, sudosso, 150, al vivio secca sinistra, 180, dosso, 140, al vivio secca destra, 160, stai a sinistra, su salto, 200, 100, dosso, rallenta, 100, destra 3, media, 60, 60, accenno sinistra, sudosso, 30, sinistra 1, apre, poi chiude, dopo incrocio, 150, accenno destra, accenno sinistra, destra 4, in ponte, sinistra 4, rallenta, 30, al vivio secca destra, 100, sinistra 6, lunga, chiude, 5, in sinistra sudosso, 130, rallenta, destra 6, 40, scicane, entra a destra, 70, stai a sinistra sudosso, 100, salto, rallenta, 100, stai a sinistra sudosso, 40, al vivio secca sinistra, e dosso lungo, 110, dosso, 200, al vivio destra 1, e accenno sinistra, 130, addosso, 80, dosso, 230, attenzione, sinistra 5 sudosso, 30, destra 4, 30, sinistra 6, 40, rallenta, stai a destra sudosso, 40, destra 2, sinistra 1 sudosso, destra 6, 90, al vivio destra 1, chiude, 30, retarna, destra 3, 60, rallenta, sinistra 6, destra sudosso, 40, 90, tornante sinistra, apre, e dosso lungo, destra 1, apre, e sinistra 6 sudosso, rallenta, 80, al vivio secca sinistra, e al vivio tornante destro, apre, e secca sinistra, 100, secca sinistra, 90, nascosta, secca sinistra, 90, sinistra 1, corta, intornante destro, e al vivio sinistra 1, chiude, 30, destra 4, 40, dosso, 80, rallenta, ritarda, sinistra 4, media, in destra 3, apre, lenta, dosso, 50, gira, destra 1, corta, e dosso lungo, 60, rallenta, sinistra 6, 40, al vivio secca sinistra, accenno, destra 60, su arrivo, destra 5, all'arrivo, Ok, tempo di 4 minuti, 6, vengono a 1 E ragazzi, come avete visto tantissima roba a questo rally, noi siamo arrivati alla fine di questo episodio, continueremo nel prossimo, Che dire, gare, adesso io, come detto, sto registrando quest'outro diversi giorni dopo, quindi non ricordo esattamente, ma in teoria queste tre gare sono state molto molto belle, mi sono riuscite molto molto bene, ovviamente specifico, ragazzi, io le gare le ricomincio, perché io riporto su YouTube come gioco io, Io, nel mio personale, rifaccio le gare finché non mi vengono bene, perché le voglio fare così, se a voi questo non piace, mi dispiace, però, ecco, Volevo mettere in chiaro, credo che, insomma, sia abbastanza palesa la cosa, però è così, e, però tanta roba, non sempre comunque mi riescono benissimo, Però mi ricordo che ero molto contento di come era andato, insomma, questo rally, e niente, niente, tantissima roba, veramente mi sono divertito un botto, E noi ci vediamo al prossimo video con il resto del rally, sono due o tre gare, non mi ricordo, due, credo, mi sa, una lunga e un'altra corta, Niente, niente, io spero che questo video possa esservi piaciuto, se così fosse, mi raccomando, like e commentino per supportare il canale, Per aiutarmi con l'algoritmo, poi l'iscrizione è la cosa più importante, poi condivisione, campanellina e tutto quanto, Mi raccomando, alla prossima, love you, ciao!